Ciao a tutti, bentornati su TheGamesBrew, io sono Roy Lovat e questo è Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Siamo alle prese con una minaccia non indifferente perché abbiamo trovato il luogo in cui è nascosto il terzo mietitore. Abbiamo dei sabotatori a bordo che hanno fatto saltare l'editto in aria, parte dei ponti, hanno rubato anche un seme. La nave era appena riparata e quindi adesso dovremmo lanciarci in riparazioni estese per recuperare i punti persi. E dobbiamo andare a purificare questo pianeta perché come vedete è al massimo dell'infestazione, infatti livello di pericolo grave. E dobbiamo cercare di non morire nel mentre. Allora dice cerca e distruggi la progeni della fioridura, non dice il diffusore, quindi probabilmente non potremo fare lo stesso dell'altra missione, ovvero distruggere semplicemente il diffusore. Ma lo scopriremo non appena scesi sul pianeta. Le gesta gloriose dice non infliggerai colpi critici. Non dipende da noi. Proviamo. Se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo. Ok. Allora qui in realtà lascerei tutto così perché lui deve salire di livello. Beltramus. Va bene questo. Lascerei tutto così perché appunto questi devono salire di livello e l'altra volta hanno funzionato molto bene, per cui lanciamo la missione. Ah, stratagemmi. Abbiamo sbloccato qualcosa? No. Stiamo ricercando lo stratagemma di cura generale. E mi devo ricordare di usare questi perché sempre mi dimentico degli stratagemmi. No. 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 Ok, non li abbiamo attivati Possiamo sfruttare sta cosa a nostro vantaggio Ah, è questo? Col mazza frusto Non sparare Ok, questo è il loro paladino praticamente Allora io direi Che è uno schifo direi Quella a destra c'ha il colpo dalla distanza Per cui non mi posso ritirare Questo quanto c'ha di movimento? Quattro Uno, due, tre, quattro Mi pare strano da noi Quante ce ne abbiamo? Sei Uno, due, tre, quattro, cinque, sei No, e allora scusa Ah, con ogni singola puntazione Quindi quattro Può arrivare fino a qua giù Che bello Siamoci qua Tu metti di qua Tu metti di qua Tu metti di qua Tu metti di qua Bello 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 Meno male abbiamo l'infermeria potenziata Su l'infermeria potenziata oh ma proprio non ha intenzione di morire grazie uno ma sarebbe bello uccidere questo ma come no non c'è bisogno di attivare nessun altro vabbè mo attivo quelli la no e infatti ah maledizione so pure due piante arrivano le rinforze di qua bellissimo bravo strike for the chapter vince vince Sta processando Il contrattacco Che arriva di là Allora lì non ci possiamo avvicinare Sicuramente perché ci sono quelle piante Che ci massacrano Abbiamo fatto bene a mettere l'armatura Mamma mia Un altro picco warp Bello Siamo intrappolati Ma che bellissimo Vai liberalo Liberalo E poi spara questo No Vai qua dietro In un instant Feel my wrath What is your will E dobbiamo andarcene Ma dove Qui è veramente pericoloso Qui At once We strive Unleash me With me My brothers Advance Sons of barbarous Slither Ok Quello simpatico è rimasto intopato là dietro Storm We We Bring We bring Foe Wounded Destroy I am here to serve Armed Armed And ready Your orders It is It is finished Scramming ready To all We Come With Boom Feel my wrath No No aspetta Yes commander Vediamo un poco te Yes sir No aspetta I Strike True Può farlo su te stesso Unleash me With alacrity Vengeance The enemy Weakens Glory to Xiphos With me Your ordered Brothers Attack Eh mamma mia Quello c'ha il fucile da cecchino Eh lo sapevo qui La pianta Allora vediamo un po' What is your will It Will be done Driding through the Your command At once I am his So to be unworthy Moving Moving swiftly Eh Qui adesso Il problema È che Ovunque io vada Quelli mi sputano Proviamo a tornare indietro Ok Qua non c'è nessun passaggio No perché lui non può saltare Quindi niente Ma è rallentato Pruegun It Will be done It Will be done At once Reno Required Eh, dai. In un instante. No devil shall elude my gaze. We slay the darkness! What is your will? My wrath is restored brother. Weapon re-armed! No, non capita tutti i giorni di vedere l'apotecario fare un colpo a corpo a corpo. Ok. Vabbè, seminigiano. Senti, già che ci siamo. Non puoi curarlo. E' l'Empere. Andiamo in posizione. Più horrors invadono il nostro regno. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte. Unleash me! We strive! Yes, commander. It will be done. Yes, commander. It will be done. We are close. We will find them, commander. We are close. I am with you. I am with you. Seeking the tainted. What is your will? We strive! Standing ready at once. Unleash me! Sì, sir. Freeza the plague lord! On the right! But the right! It's your command. And one! It's my going to be. Yes, sir. è che ho paura che questo lanci la granata è andato per il corpo a corpo direi che è stata un'ottima scelta target acquired we strive I am his will it is finished place in ammunition depleted storm advancing e niente rules inflicted no demon shall avoid my blade is yours gliding through the wall moving now ok bene andiamo qui si rimani la perchè sei notti in casino non c'era un altro seme vero tutti vicini vicini bene bene ancora meno volontà mi pare mi pare un'ottima cosa ecco percepisci di solo non attivarli in teoria in teoria adesso questo qui non dovrebbe essere una pianta per cui non dovrebbe essere troppo una disperazione allora tu devi avvicinarti ma dove ti metti qua e invece c'è la pianta for mortarion pure rinforza allora io direi io direi no aspetta facciamo così stavolta col cavolo che mi avvicino alla pianta as you will as you will affirmative your orders with me my brother this place seeths with rot feel the infection feel the infection they don't more of the plague gods minions more of the plague gods minions unleash me your command my wrath is restored brother we strive what is your will taking position non hai capito non mi muovo proprio fear is our ally carry it to them advance for the security attack what is your will opening fire advancing oh sissy 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 right right standing ready in an instant so to the unworthy ah devo fare il colpo di forza per giustiziarlo ah ok we strive my my blade is yours it will be done as ordered dodge oh 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 yeah ah ah altre rinforze è sempre un bel piacere gli stiamo sparando praticamente in bocca non gli facciamo niente l'Empereur lights our path back fiend taste my fury must rearm unleash me strangle i am here to serve with alacrity I am the Emperor's fury onward brothers I have sanctified my rounds tanto le coperture sei inutile con quello però I am the Emperor's fury Spare THEM NOTHING! Ha ha! Eleven... Slither... Ha 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 ha... Yes, spread his gift! Will over wickedness! Blessed are all! Ha ha ha! No match for the Emperor's chosen! His wounds will heal! A RAPETURE! Sì! C'ha un bel massacro psionico! Ma baffan bene! Senti ma invece... Una simpatica granata che vi spari di sotto? TARGET ACQUIRED! FAULE DESTROYED COMMANDER! Ok, allora adesso... Teletrasporto per uno... No, c'è una cosa... No, c'è una cosa... Ah! Senti ma... Senti ma... Mio, i tuoi fratelli rompiti! Ah... Pensavo che... il Justicar... dovesse ancora muoversi... e invece evidentemente mi sbagliavo... Eh beh, certo! Urbo Questa non ha sputato Ah volevo prendere il seme Pensavo dovessimo aspettare al finale Invece no Vabbè dai Non è andata proprio malissimo Adesso vedremo con L'infermeria avanzata Quanto dovremo aspettare Perché i nostri soldati Si rimettano in forza Ah dai Se è blu che non ci serve Un cappellano di livello 7 Boh No Bella questa Attacco d'opportunità E respinta dell'attacco Subito Questa Boh Prendiamola se questo che è No Lo prendiamo? Andiamo Dai 19 giorni Vediamo un po' Salito di livello Ok Allora che facciamo Questo Attiva per conferire a questa abilità Afflizione sanguinamento Beh Il cavaliere ottiene 5% in più di critico con gli attacchi in mischia Subito Questa abilità automatica ottiene più 2% di danni per colpo 1% Più armatura Sì Munizione Il cavaliere ha una probabilità di 5% di ottenere un'attacco in mischia Vai Ah ne abbiamo ancora uno Aumentiamo ancora di più la percentuale 10% quindi 15% Conferma La promozione Adesso lui Allora Vediamo un po' Potremmo darti questo Uno slot in più Per gli equipagenti passivi Oppure Carica devastante Corre in una direzione introgitata a 10 Infliggendo un danno Più un stordimento Immune pericoli Respinta Sanguinamento Dilaniare gli impuri Colpisce tutti i nemici Entra un'area esplosiva di 2 Dal cavaliere Infliggendo 5 danni Beh Questo non è male Sì Facciamo questo E questo Ne abbiamo ancora uno Sì Munizione Oh questo Ok Il report del gran maestro È in arrivo tra 7 giorni Quello che potremmo fare Adesso È attaccare questo Per vedere un po' Prima di chiudere Se Riuscissimo per caso A distruggere un altro Incrociatore Ce la faremo? Boh Proviamo Ci incontriamo a metà strada? Ma come? Dice Stanno Concentrato il fuoco Su Libris Malleus E Lunete ci dice che Gli scudi vacuum Sono stati ridotti Il 90% Porca miseria Aprite il fuoco La nave potrebbe essere Esposta a rischi Manovra evasive Sarà esposta a rischi Non sovraccarico Gli scudi Perché se no Li perdiamo Facciamo questo E l'abbiamo distrutta Senza problemi Ok Bene E direi che possiamo Terminare qui Questo episodio Di Warhammer 40.000 Chaos Gat di Monanters Le cose procedono Nel prossimo video Dovremo parlare Con il Gran Maestro E dirigerci poi Ad uccidere Il nuovo Mieditore Come sempre Vi ricordo che Qui sotto Potete lasciarmi un commento Potete farmi sapere Se voleste Il vostro nick Collegato a uno Dei soldati Presenti Nelle nostre armate Potete mettere Like al video E iscrivervi Al canale Come sempre Io sono il Gran Maestro Roy Lovat E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao